Eccolo, oh no, che si fa? Questo fa, guarda, che? Il cazzo, bello, guarda il cazzo, bravo, oh vai, ale, eccolo, oh controllalo eh Filippetto, io sto andando acqua, e lui? Questo zappo vi serve per quando va che c'è la cura quella solida, mettilo sul taschino. E quando mandi a Real Film, ta. Buon Natale a tutti, a chi ci vuole bene e a chi ci vuole male. Buon Natale 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 Arzuche Roy com'è? Roy Arzuga Robinson Si affoga però Troppo concentrato Doi un momento